Ci sono dati nazionali che confermano anche i dati regionali dell'Osservatorio regionale. Pronto soccorso è l'ambiente dove avvengono maggiormente aggressioni, poi seguito dagli servizi di psichiatria, CERD, CUP e poi a caduta tutti gli altri servizi dove più o meno avvengono, però in minor misura. Quello delle aggressioni ai sanitari è un fenomeno in forte aumento. Nella ASL Toscana sud-est, cioè nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto, ce ne sono state 128 nel 2021, 234 nel 2022 e nei primi tre mesi del 2023 siamo già a 104. L'ultimo in ordine di tempo è il pronto soccorso della fratta a Cortona, ferire un medico, un quarantenne che dopo un litigio con un vicino di casa si era spostato in un bar e anche qui aveva creato disagi. Poi l'intervento dei carabinieri e il trasporto in ospedale dove il quarantenne si è scagliato contro i sanitari, ferendo al volto il responsabile del pronto soccorso. Negli ultimi casi che abbiamo avuto nella nostra azienda, questo della fratta, un altro caso che è successo al pronto soccorso di Orbetello, le forze dell'ordine che intervengono per una citazione psicomotoria chiamati per urla, per violenza in un bar come è successo ad Arezzo o in una casa come è successo per l'accesso poi al pronto soccorso di Orbetello. Queste persone che sono violente vengono caricate in ambulanza perché viene chiamata l'ambulanza con dei volontari, tra l'altro senza medico, senza nessun parere medico e vengono portati al pronto soccorso. La domanda che io stamattina così mi sono fatto, continuo a farmela e la faccio anche a voi giornalisti, ma queste persone hanno dato il consenso ad andare al pronto soccorso? L'articolo 32 della Costituzione prevede che per qualsiasi atto sanitario ci sia un consenso informato ad ogni atto di natura medica o nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario senza il suo consenso a meno che non ci siano i casi previsti dalla legge, quindi il trattamento sanitario è obbligatorio. Se queste persone vengono violente, vengono caricate in un'ambulanza e poi arrivano al pronto soccorso, i medici e gli infermieri del pronto soccorso non sono lì a fermare la violenza, sono lì a curare le persone che hanno dei problemi di salute. Non siamo i tutori dell'ordine per fermare le persone violente, ma senza polemica nei confronti di nessuno. Tra l'altro la nostra azienda, il direttore generale, il dottor Durso, ha fatto un protocollo di intesa come previsto dalla norma 113 del 2020 con le prefetture di Arezzo, Grosseto e credo anche di Siena, che se non è stato fatto verrà fatto a breve, per gestire le modalità di intervento congiunto tra polizia, forze dell'ordine e operatori sanitari. Dopo l'episodio anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, e l'assessore alla sanità Silvia Spensierati hanno espresso solidarietà a tutti i lavoratori dell'ospedale. La denuncia adesso, per fatti simili, scatta d'ufficio. Non ci deve essere più la lesione grave o gravissima, basta che sia aggredito. Dà un aiuto all'operatore sanitario che viene aggredito in quanto non deve più fare la querella di parte, perché la querella di parte spesso non viene invagita per timori delle ripercussioni o delle vendette successive.